Senatore Candiani, ci sono brutte notizie per quanto riguarda il Mille Proroghe. Che cosa è successo? Il Mille Proroghe è che come sempre è un grande calderone in cui ci sta tutto. Gran parte riguarda procedure che vengono rinviate e azioni che il Governo non ha fatto e che vengono rinviate al futuro. Noi tuttavia abbiamo inserito degli emendamenti e tra gli emendamenti è anche uno specifico per quanto riguarda il settore della sigaretta elettronica che è stato in maniera veramente forte schiacciato da una tassazione che lo rende sostanzialmente impossibilitato dall'operare. Abbiamo inserito un emendamento per chiedere al Governo di attendere con l'entrata in vigore delle normative come il 58% di tassazione di accisa fino al mese di giugno sedendosi al tavolo con gli operatori per capire come poter modulare in maniera corretta le disposizioni fiscali e di applicazione. Peraltro è veramente incredibile che ancora oggi si parli di monopolio, infatti qui tutto viene ricondotto poi al monopolio di Stato. Esiste un mercato libero che invece in questo caso viene completamente dimenticato. E l'abbiamo fatto con un emendamento che aveva al suo interno appunto una proposta di tutela di coloro che oggi operano e di questo mercato che si sta andando a espandere o si stava espandendo creando anche posti di lavoro con un emendamento che conteneva anche una proposta di inserimento di tassazione sulle transazioni finanziarie speculative. Quindi quelle operazioni che hanno creato anche grandi difficoltà in mercati con le entrate e uscite veloci di speculatori che poi ovviamente fanno grandi guadagni sulla pelle dei risparmiatori. Tutto è stato approvato in Commissione, in questo caso nella Commissione Affari Costituzionali. Poi quando si sono accorti che andavano ad essere toccati gli interessi della finanza è stato tutto stoppato dalla Commissione Bilancio. Mi verrebbe un po' da dire che il Governo sta utilizzando il sistema fiscale un po' come una roulette russa prendendo e utilizzando questa pistola e puntandola ora alla tempia dei panettieri, ora alla tempia degli esercenti del commercio piuttosto che degli artigiani e degli industriali e ogni volta facendo un grave danno. In questo caso, nel caso del settore della sigaretta elettronica, addirittura andando a neutralizzare qualsiasi possibilità economica. Stiamo parlando di accise che arrivano addirittura in questo caso al 58,5% su prodotti che sostanzialmente saranno invendibili per il costo. È su questo che si valuta poi quanto uno cerca di operare a favore del lavoro e quanto invece protegge gli interessi delle lobby, della finanza come in questo caso quella del tabacco. Grazie. Grazie. Grazie.